Triestina e Napoli lontane dal peso forma ma per la prima volta non subiscono gol. Partita confusa e pochi brividi, primo tiro dopo 20 minuti, Moscardelli cerca il pallonetto fuori misura. Replica del Napoli con Floro Flores, l'occasione è buona ma Pinzan c'è. Alla mezz'ora azione da rivedere, Godeas lanciato sulla sinistra evita fuori area il portiere partenopeo Manitta che poi respinge per gli allabradati con una mano per l'arbitro Lucini con il corpo. Poco dopo opportunità per la Triestina, mischia furiosa in area ma il Napoli si salva. Ad avvio di riprese il Napoli a protestare, da Kruz va giù davanti alla porta alabradata, l'arbitro fa proseguire, degli ospiti poi le iniziative più interessanti, un destro di Floro Flores di poco a lato, poi un pallone ghiottissimo per Pasino che spara fuori. Poco prima della mezz'ora ancora Floro Flores di testa ma senza la forza necessaria. E in chiusura per la Triestina il primo acuto di Moscardelli e un tiro di Godeas ma lo 0-0 non si schioda.